L'incidente mortale sulla strada stradale 124 muore un 75enne e tre ferite all'Umberto I. Ennesimo incidente stradale mortale in Siracusana dove un anziano di 75 anni è morto in un tragico sinistro stradale avvenuto sulla stradale 124 in prossimità dello svincolo dell'autostrada Siracusa-Catania sul posto dei soccorsi dei sanitari del 118 delle forze dell'ordine. A quanto pare, secondo una prima ricostruzione, la macchina guidata dalla vittima si è scontrata per causa del vaglio degli inquirenti con un'altra auto con a bordo tre persone che sono rimaste ferite e sono state trasferite al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa.